La festa di San Giuseppe ha registrato una grande partecipazione di fedeli. La processione è tornata in auge dopo 200 anni, è stata animata dalla banda Sicilia in musica e ha visto la partecipazione di falegnami ed ebanisti e una delegazione dell'area al mestranza. Dopo 200 anni stiamo facendo di nuovo la processione di San Giuseppe. Si vede con le persone che ci sono state in tutta la giornata, che è stata veramente sentita. Faremo la tavolata per tutti. Ho voluto dare un po' impulso, anche un po' invitando laici, collaboratori, soprattutto a cominciare dal Consiglio pastorale parrocchiale, poi mediante formazioni di comitato per i festeggiamenti di San Giuseppe, nel volere ripristinare la processione di San Giuseppe, processione che si effettuava fino agli inizi del 1700 a Caltanissetta, dopodiché è stata sospesa. Mediante un convegno che si è tenuto qui nei locali della stessa parrocchia, abbiamo voluto incentivare la realizzazione di questa processione. Ho chiesto il nulla osta alla Curia Vescovile, al Vescovo, il quale mi ha dato il suo consenso e da che ho avuto il nulla osta si è mossa una macchina tale da sorprendermi positivamente. L'impressione è stata veramente molto positiva perché ho visto tanta gente che partecipava, pregava e invocava l'intercessione di San Giuseppe, che è il patrono di questa comunità. Ho visto le maestranze, ho visto poi anche il momento conviviale di avere una festa che merita conto sia continuata, rilanciata, proprio perché credo faccia parte dell'identità di questa comunità che sente e chiede la protezione di San Giuseppe. Oggi viviamo tempi in cui abbiamo particolarmente bisogno di questo aiuto che viene dall'alto attraverso questa mediazione importante di San Giuseppe, una persona umile, semplice, a cui il Signore ha affidato niente meno i due tesori principali, cioè Maria, di cui Giuseppe è sposo, e Gesù, il nostro Signore Salvatore. Giuseppe ci insegna ad assumerci le nostre responsabilità e a svolgerle con il suo stile di umiltà, di semplicità, di silenzio, di dedizione agli altri. Ecco, vi permetto di fare gli auguri a questa comunità perché possa vivere così coesa, così unita e anche a ravvivare la fede nel Signore e nell'intercessione di San Giuseppe. Auguro ogni bene e soprattutto auguro la Santa Pasqua a tutti.